Sono Gabri Costa ragazzi, sono pronto per recensire. Oggi vi farò vedere Cyberbots Full Metal Madness, vi farò vedere Bao e Mao con il loro robot Fordy, vi farò vedere la prima scena. Guardatela tutti insieme. Bao e Mao partono, iniziano la loro missione, però la devono compiere. Vediamo chi incontreranno e chi sfideranno. Affronteranno Gawain Mardok con il suo robot Galdin. Io vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace.